Vabbè in curvido! Allora, Veronica è maltrice, regista e sceneggiatrice Allora, Veronica è pubblico! Ha partecipato a varie trasmissioni televisive su mete locali e nazionali e l'ultima volta, qualche mese fa, sei stata alle Iene Tre volte! Tre volte?! Beh, meglio andare alle Iene che prendono un tapiro, no? Nel 2020 ha preso parte al film sulla vita del pittore Antonio Liga 2 Volevo nascondermi per la regia di Giorgio Di Lippi è regista ed autrice di cortometraggi dai temi impegnati sociali come la ludopatia e il femminicidio casi psichiatrici e di alcolismo e droghe quindi, direi che... ebbè, non sono temi comunque che in un modo o nell'altro giusto che vengano messi giusto? bisogna farli conoscere per quanto bisogna farli conoscere quindi grazie Veronica una super donna e quindi anche per te un piccolo riconoscimento grazie grazie mille sei andato a piedi tavolo prima pizza grazie ждiamo sul palco Mauro D'Adanoce Grazie a tutti.